Su Daniel Sannipoli, vero obiettivo di mercato della Pescara, non ci sono sviluppi, situazione di stallo, nessuna certezza, tutto probabilmente rimandato la prossima settimana. Prove di mediazione anche da parte di Augusto Carpeggiani, agente della Mezzala. Nella trattativa tra il Latina, titolare del cartellino del Pescara, non si registrano dunque. Passi avanti, la società laziale chiede 70.000 euro, il Pescara ne offre 30.000, più il 25% sulla rivendita futura. Sannipoli si è già rifiutato di firmare il rinnovo di contratto in scadenza il 30 giugno 2024. Da tempo ha trovato l'accordo con i dirigenti Bianchazzurri. Se l'ex Trastevere è così importante, come sembra, servirebbe un sacrificio, anche da parte del Pescara. Non stiamo parlando di cifre astronomiche, tanto più che si potrebbe chiudere, almeno questa è la sensazione, tirando fuori 50.000 euro. Il Delfino, è vero, potrebbe prendere il centrocapista a zero dopo il mercato invernale, facendo firmare Sannipoli per la prossima stagione, ma non sarebbe la stessa cosa in una mediana leggera e con poca esperienza e il giocatore serve soprattutto oggi. Martedì prossimo, intanto, è atteso in città il 19enne centrale Riccardo Stivanello, intesa già raggiunta da giorni col Bologna. Il classe 2004 arriva in prestito con valorizzazione. Piede destro, Stivanello è un difensore strutturato, fisico, con personalità e capacità di giocare la palla. Non è velocissimo. Colai, destinato al Cesena. Trattativa lenta, ma andrà in porto per Vergani. Solo sondaggi, ma nessuna offerta ufficiale. Punto interrogativo su Mora, richiesto dal Trento. Domani al comunale Ughetto di Febbo, di Silvi Marina, amichevole col notaresco. Inizio alle 17.30, ingresso gratuito, diretta su Rete8. Sarà anche l'ultimo test, prima del debutto in campionato, in programma sabato 2 settembre, all'Adriatico Giovanni Cornacchia, ore 20.45, contro la Juventus Under-23, che ieri ha ufficializzato l'esperto attaccante Simone Guerra, ex Feralpi Salò.